Era finito sotto processo con la pesante accusa di bancarotta fraudolenta ma il castello accusatorio è caduto davanti al collegio del tribunale di Sulmona che ha assolto questa mattina OC, 68enne del posto, perché il fatto non sussiste. 68enne era accusato di bancarotta fraudolenta per non aver esibito al curatore fallimentare le scritture contabili della società che amministrava e che all'epoca dei fatti gestiva il Night Malibu di Sulmona. Nel corso del processo la difesa ha dimostrato con documentazione testimonica all'epoca dei fatti, il 2011, anche se fallimento è avvenuto nel 2017, il 68enne non era amministratore della società e che in ogni caso la sentenza di fallimento e la richiesta del curatore di esibizione delle scritture contabili non gli era mai pervenuta direttamente. Non a caso nel corso dell'istruttoria il curatore ha riferito che la richiesta per compiuta giacenza era tornata indietro, da cui la sentenza di assoluzione con formula piena, l'imputato è stato difeso in giudizio dall'avvocato Alessandro Scelli.